eccoci siamo in diretta buonasera a tutti ciao Valentina siamo qui per una nuova diretta l'ultima di quest'anno di questo 2020 molto particolare abbiamo un grandissimo ospite stasera qui con noi il professore Alessandro Barbero ciao professore ben trovato grazie di essere qui con noi ciao grazie a voi ecco allora quella di stasera come dicevo una diretta speciale anche perché è la prima diretta che viene organizzata con pluricollaborazioni molte collaborazioni cioè quella della libreria le mille una pagina con Book Advisor che è questa comunità bellissima virtuale di lettori straordinaria con la quale io e Valentina abbiamo fatto tante 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 dirette nei mesi scorsi e poi con Libri d'Asporto che è questa comunità di editori e di librai nata a marzo durante il periodo quindi del lockdown totale e che ci ha permesso ha permesso noi librai di spedire libri a tutti i clienti ai nostri clienti in tutta Italia anche quando non si poteva venire in libreria quindi siamo molto felici di questo e adesso veniamo a noi e al libro di cui stiamo per parlare che è questo Dante pubblicato dalla terza di Alessandro Barbero allora io vi presento intanto il professor Barbero anche se tutti lo conoscete benissimo storico medievalista specializzato anche in storia militare professor Barbero insegna storia medievale all'università degli studi del Piemonte orientale a Vercelli collabora con la televisione e ha scritto tantissimi libri tantissimi saggi storici di cui io voglio darvi qualche titolo solo qualche titolo perché sono veramente veramente tanti con la storica Chiara Frugoni ha pubblicato Dizionario del Medioevo Medioevo storia di voce racconto di immagini pubblicati dalla terza poi Carlo Magno un padre per l'Europa questi da solo del 2000 il Ducato di Savoia 2002 la guerra in Europa dal rinascimento a Napoleone con Carocci nel 2003 la battaglia storia di Waterloo sempre la terza nel 2003 9 agosto 378 il giorno dei barbari nel 2005 barbari immigrati i profughi deportati nell'impero romano nel 2006 terre d'acqua i vercellesi all'epoca delle crociate nel 2007 l'epanto la battaglia dei tre imperi nel 2010 il divano di Istanbul con Sellerio nel 2011 i prigionieri dei Savoia la vera storia della congiura di Fenestrelle con la terza nel 2012 donne madonne mercanti cavalieri 2013 Costantino il vincitore con Salerno editore nel 2016 le parole del papa ancora con la terza nel 2016 Federico il grande Sellerio 2017 Caporetto la terza nel 2017 per il centenario della battaglia e professor Barbero ha scritto anche dei romanzi di cui voglio ricordare Bella vita e guerre altrui di Mr. Pa il gentiluomo pubblicato da Mondadori e che ha vinto il premio strega nel 1996 poi nel 2011 è uscito sempre per Mondadori gli occhi di Venezia di cui poi diremo qualcosa e le Atenesi nel 2015 sempre per Mondadori veniamo ora a Dante che è uscito a ottobre una biografia storica di Dante ci stiamo avvicinando al 2021 mancano pochissimi giorni e il 2021 sarà un anno molto particolare per Dante vero professore ci vuoi dire tu per quale motivo è un anno così particolare? ma come dire per il motivo più banale immaginabile è un anniversario e sappiamo tutti che nel nostro mondo gli anniversari non so se dire purtroppo perché da moralista mi verrebbe da dire purtroppo è l'anniversario i 700 anni della morte di Dante nel 1321 e allora a volte in un attacco di moralismo mi viene a dire ma ragazzi ma chi se ne frega che è morto 700 anni fa se è importante è importante invece però sarebbe un atteggiamento sciocco perché le cose importanti sono innumerevoli e il ritmo degli anniversari aiuta a concentrare l'attenzione a mobilitare le risorse di volta in volta sui diversi sui diversi temi salienti della nostra della nostra cultura quindi va bene così ben vengano gli anniversari e del resto sarei un ipocrita se mi lamentassi degli anniversari perché questo libro è stato pensato insieme con Giuseppe la terza qualche anno fa anche proprio perché sapevamo che nel 21 ci sarebbe stato l'anniversario io invece ti chiedo professore visto che Dante è comunque un argomento che viene studiato prevalentemente a scuola tu hai fatto un libro un po' diverso da tutti gli altri libri scritti su Dante è una biografia un po' un po' diversa ti chiedo se secondo te viene insegnato nelle scuole in maniera corretta e se il tuo libro può apportare qualche miglioria qualche aggiunta all'insegnamento di base che viene appunto fatto nelle scuole su questa figura ma guarda Valentina io non vorrei mettermi a dare opinioni su quello che si fa a scuola perché secondo me la scuola è un mondo così complesso e così ricco e affronta tali e tante difficoltà che chi non è nella scuola dovrebbe solo star zitto e come dire e inchinarsi anche rispetto al lavoro che fanno gli insegnanti in generale e comunque le complicazioni dell'insegnare a scuola sono veramente qualche cosa che se non sei lì dentro è difficile credo capire apprezzare fino in fondo io a scuola sono andato tanti anni fa e quindi non ho la minima idea se si faccia ancora come adesso per esempio una lettura integrale o quasi della Divina Commedia negli ultimi tre anni delle superiori quello che mi sento di dire è che mentre altre cose fatte a scuola rischiano di essere rovinate perché inevitabilmente l'imposizione di qualche cosa appanna la bellezza e questo tipicamente succede per esempio ai Promessi Sposi che poi quando li rileggi da adulto ti accorgi che sono un romanzo bellissimo ma divertentissimo e tutto quanto ma invece a scuola è una fatica è una noia succede alla storia che è in assoluto la materia che appassiona di più i non addetti ai lavori nella vita normale da adulti un'infinità di persone fanno tutt'altro nella vita ma sono appassionate di storia di romanzi storici di serie storiche tutte cose che non succedono mi risultano né con la geografia né con l'algebra ecco invece con la storia sì però la storia a scuola invece per comune consenso è noiosissima allora ci sono una serie di problemi ma mi sembra che invece Dante non rientri in questo vasto ambito degli argomenti che purtroppo essendo imposti obbligatoriamente a scuola rischiano di risultare noiosi o vengono comunque appannati con Dante non succede secondo me nessuno esce da scuola dicendo Dante per carità non lo leggerò mai più in vita mia magari non l'hai capito magari non te lo ricordi però però l'idea di Dante dentro noi italiani rimane come quella di qualcosa di bello di grande e quindi evidentemente va bene così ecco io al di là del fatto che non ho davvero consigli da dare alla scuola perché non so quali sono i problemi con cui oggi gli insegnanti si confrontano o meglio ne sento parlare dall'esterno naturalmente però credo che Dante appunto in qualche modo sia sempre sfuggito a questo rischio di non essere di essere insegnato in modo tale da renderlo da renderlo magari noioso senti scusate un ritorno della mia voce va bene non mi importa allora tu hai iniziato il libro con una battaglia molto famosa che è la battaglia di Campaldino ecco vorrei chiederti come mai hai voluto iniziare a parlare di Dante proprio partendo da questa battaglia allora il punto è questo il libro è una biografia di Dante strutturata in modo come dire convenzionalmente cronologico dalla nascita alla morte e in realtà preceduta da alcuni capitoli sulla famiglia di Dante sugli antenati di Dante perché in realtà per collocare una persona specialmente di quell'epoca chiarire chi è la sua famiglia chi sono i suoi antenati è importante l'identità di Dante dipendeva anche da chi erano suo padre suo nonno e per lui soprattutto il trisnonno cacciaguida a cui non a caso dedica tre canti del paradiso ecco quindi non si può fare una biografia di Dante senza partire dalla sua famiglia e dai suoi antenati e l'antenato che è più antico appunto è il trisnonno cacciaguida però mi sono anche detto che cominciare è un libro dedicato a Dante col capitolo sul trisnonno poi il capitolo sul bisnonno poi quello sul nonno e sul papà e sugli zii ecco non mi sembrava un bel modo di cominciare mi sembrava un modo debole di cominciare e allora mi è venuta in mente questa battaglia sì ovviamente mi è venuta in mente questa battaglia a cui Dante ha partecipato che per lui era importante perché viene fuori in molti modi che per lui è stato un momento importante della sua biografia e a me è venuta in mente perché io sono appunto anche uno storico militare e raccontare le battaglie è una cosa che mi piace e per di più mi sono reso conto che siccome l'organizzazione militare dell'epoca è uno specchio della società dell'epoca e ognuno combatte in una collocazione con un tipo di armi di equipaggiamento che corrispondono alla sua posizione sociale allora cominciare facendo vedere Dante sul campo di battaglia era anche un modo per cominciare a parlare appunto di quello che mi sembrava necessario come premessa cioè la posizione sociale di Dante e della sua famiglia nobile non nobile in una città dove c'è una grande mobilità sociale ma dove però chi ha gli antenati se ne vanta ecco tutto questo quindi alla fine quagliava tutto ecco e quindi a un certo punto ho deciso di cominciare di lì e non me ne sono più pentito ecco e a proposito di questa particolare gestione che hai fatto tu adesso c'è un punto in cui tu spieghi ad esempio che il pensiero del lettore può essere iniziato anche dalle serie tv che vede il tuo punto perché magari viene usato il titolo di mestere per tutti quando in realtà era un titolo risposto solo per certe categorie o piuttosto il cavallo l'uso del cavallo era nella nostra mente che siamo abituati a vedere serie tv di uso comune invece all'epoca il cavallo era una cosa che non si possedevano e beh sì diciamo io credo che questo libro è sembrato nuovo sotto certi aspetti è proprio perché cerca di come dire arredare i nudi fatti della vita di Dante che di per sé erano in linea di massima già abbastanza conosciuti quelli che conosciamo poi è pieno di cose che non sappiamo per niente ma bene o male non è che io abbia scoperto avvenimenti della vita di Dante prima sconosciuti ma nel momento in cui a una vicenda si applica allo sguardo dello storico che ha una preparazione particolare per cogliere il significato delle cose per l'appunto in quell'epoca e allora avvenimenti che tutti già conoscevano di cui si parla anche nei manuali acquistano un altro significato e allora appunto dal discorso della partecipazione alla battaglia di Campaldino viene fuori il problema della collocazione sociale della famiglia di Dante del fatto se fosse ricco oppure no e lì ci sono tutti dei luoghi comuni nelle vite di Dante scritte finora sul fatto che Dante fosse povero fosse in crisi economica e sono tutte frottole invece è evidente che aveva una posizione economica abbastanza solida e viene fuori e viene fuori l'importanza di quella dimensione del combattimento a cavallo per la gente di allora e quindi anche per lui perché lui era un genio era un mostro ma era un uomo della sua epoca naturalmente come tutti siamo immersi nella nostra epoca e quindi noi diciamo vabbè il cavallo già immaginare Dante a cavallo è difficile avete mai visto un monumento di Dante a cavallo Dante è sempre raffigurato come ahimè anche sulla copertina del mio libro anche se lì ne abbiamo messo solo un pezzettino è sempre raffigurato con la corona dall'oro in testa cioè è una roba che non ha nessun senso Dante non si è mai fatto vedere da nessuno con la corona dall'oro in testa poi magari allo specchio se la metteva quando era da solo per vedere che figura faceva perché lui sognava un giorno un'incoronazione poetica a Firenze ecco e non l'ha mai avuta Petrarca sì ce l'ha avuta l'incoronazione poetica ma Petrarca era un uomo di mondo ci è riuscito a farselo fare poi dal re Roberto in Campidoglio Dante quindi nessuno l'ha mai visto con la corona dall'oro come lo vediamo noi mentre invece Dante a cavallo lo vedevano tutti i giorni perché lui apparteneva a una classe sociale che il cavallo ce l'aveva e come dopodiché uno dice il cavallo per noi un cavallo è un cavallo a meno di non appartenere a quei pochi che anche nella nostra epoca i cavalli li conoscono li cavalcano e sanno quante cose ci sono da sapere sui cavalli quanto sono diversi uno dall'altro per un uomo dell'epoca che avesse avuto i mezzi modesti ma discreti che aveva Dante Dante avrà avuto tanti cavalli in vita sua e ognuno di loro aveva un nome e un suo colore il suo carattere Dante li conosceva uno per uno e per lui erano sicuramente una cosa importante e del resto non c'era neanche bisogno dello sguardo dello storico per capirlo basta leggere quello che scrive lui in quel passo incredibile del convivio in cui racconta quali sono i desideri dei bambini e degli adolescenti dove dice i bambini bambino piccolissimo magari da insmanie perché ha visto una mela vuole la mela vuole il frutto poi quando è un po' più grande vuole l'uccellino in gabbia e poi lui continua con i desideri normali degli adolescenti della sua epoca e dice poi vogliono il bel vestito e quello vale anche nella nostra epoca naturalmente l'amico ha i jeans firmati e il mio papà e mia mamma non me li comprano ecco e poi dice vogliono la vestimenta quindi e poi lo cavallo e poi una donna ecco quello è il percorso del desiderio e quindi Dante sa benissimo che c'è una fase della vita in cui il ragazzo il suo grande sogno è il motorino la macchina cioè il cavallo alla sua epoca è la stessa identica cosa basta riflettere su questo per aggiungere un intero pezzo al nostro immaginario su Dante senza bisogno di inventare niente ecco semplicemente collegando i puntini e traendone le conseguenze senti proprio senti un po' parlando qual è l'epoca di Dante in cui Dante ha vissuto e qual era la Firenze soprattutto di Dante com'era il suo mondo molto complesso era un mondo abituato alla crescita economica alla crescita culturale civile a sapere sempre più cose ad avere sempre più libri a essere sempre più avanti rispetto alla generazione precedente ad aprire cantieri a costruire nuovi edifici buttare giù quelli vecchi e farli nuovi più grandi più belli abituato al fatto che giravano un sacco di soldi che un sacco di gente faceva i soldi dal nulla era abituato quel mondo a tutto questo al tempo stesso cominciava a sentire i primi i primi sintomi del fatto che qualcosa non andava gli ultimi vent'anni della vita di Dante cioè il primo ventennio del 300 sono gli anni in cui cominciano a diventare più frequenti le carestie noi oggi sappiamo che era un mondo sovrappopolato magari non se ne rendevano conto neanche loro rispetto alle loro risorse però era sovrappopolato quello che vedevano loro era che il prezzo del grano troppo spesso era alto e i poveri non riuscivano a mangiare a sufficienza quelle sono cose che cominciano a succedere e per di più il mondo specificamente di Dante il mondo dell'Italia dei comuni che era diversa rispetto al resto della cristianità al resto dell'Europa era all'avanguardia era il paese più ricco e più avanzato del loro mondo e aveva un sistema che era diverso da tutto il resto del mondo cioè appunto l'autogoverno dei cittadini e anche lì però stavano cominciando a venire al petti nei nodi cioè si cominciava a vedere che l'utopia di un governo largo come dicevano loro a cui partecipiamo tutti sulla base però del bene comune della concordia dell'interesse pubblico ecco si cominciava a vedere che era un'utopia un po' perché la politica era spaventosamente corrotta e tutti rubavano e tutti facevano solo gli interessi degli amici e del partito ecco e un po' perché comunque non riuscivano a tenere a freno la violenza la tentazione quella è una società violenta dove la violenza è normale è praticata non è sanzionata aver ammazzato qualcuno non ti fa guardare male come succederebbe oggi si può essere una persona importante rispettabile un politico di grido e aver ammazzato qualcuno per la strada e a nessuno fare caldo né freddo anzi è quasi un aspetto positivo tutto sommato questa violenza loro cominciano ad accorgersi che sta rendendo impossibile la vita in città sta rendendo impossibile la democrazia fra virgolette come potremmo dire noi anche se loro non lo dicevano ecco e Dante nella sua vita incarna in pieno questa transizione perché lui fino a quando ha 36 anni fino a quando lo mandano in esilio è un uomo che fa parte attiva del governo di un comune e governare un comune vuol dire elezioni votazioni consigli discorsi ordine del giorno chi parla a favore chi parla contro votiamo voto segreto voto palese e poi quando va in esilio lui finisce invece nel mondo delle città dove ormai a tutto questo si è sovrapposto il potere dell'uomo forte dove sono arrivati gli scaligeri a Verona i Visconti a Milano i da Polenta a Ravenna a dire voi continuate a fare i vostri consigli le vostre riunioni ma il potere in città lo tengo io perché io vi garantisco la tranquillità la pace l'ordine nelle strade e chi non è d'accordo a un certo punto sparisce ecco Dante vivrà alla corte di signori di questo genere dove la politica non è più votazioni ma la politica è grandi feste cavalleresche tornei in cui la famiglia del signore ostenta il suo potere e lui si adatterà anche abbastanza bene devo dire a quest'altro mondo dove avere il trisnonno cavaliere di colpo appunto cacciaguida diventa una cosa importante mentre finché stavi nel governo di popolo a Firenze e facevi parte di consigli pieni di artigiani e di mercanti del trisnonno cavaliere non c'era proprio nessun bisogno anzi magari era anche meglio non parlarne senti io ho trovato molto molto interessanti due capitoli in particolare il quinto e l'ottavo perché nel quinto si analizzano un po' le date che riguardano l'età che aveva Dante quando ha incontrato Beatrice l'età quando ha scritto appunto la Divina Commedia c'è una parte anche relativa al suo vero nome perché Dante era un po' una sorta di diminutivo e invece l'ottavo che riguarda il matrimonio con Gemma e ce li puoi raccontare un po' alla tua maniera bellissima che saremmo tutti ad ascoltarti per ore ma guarda queste sono faccende di numeri e io coi numeri non è che sia tanto mio agio ti confesso sono però effettivamente è il problema delle date della vita di Dante delle date importanti della vita di Dante su cui certe cose noi le sappiamo con certezza sappiamo che è nato nel 1265 per carità come facciamo a saperlo ma lo sappiamo lo sappiamo perché dopo la sua morte il Boccaccio ha incontrato un suo amico di Ravenna e l'amico gli ha detto sai Dante in punto di morte quando era malato mi ha detto che aveva appena compiuto 56 anni quindi uno fa il conto e arriva lì e naturalmente se uno è nato nel 1265 nell'anno 1300 ha 35 anni e nella Bibbia sta scritto che l'uomo è fatto per vivere 70 anni e quindi a 35 sei nel mezzo del cammin di nostra vita e Dante ci informa espressamente nella commedia che il suo viaggio nell'aldilà avviene nell'anno 1300 e quindi ecco lì torna tutto poi poi in realtà noi di date non ne abbiamo molte abbiamo un documento di Dante che ha 18 anni e suo padre a quell'epoca è già morto per esempio però non sappiamo se fosse morto ancora prima deve essere morto abbastanza presto Dante non ha conosciuto granché sua madre e forse non ha conosciuto granché neanche suo padre che aveva già almeno 40 anni e forse anche di più quando è nato lui dopodiché documenti precisi sugli avvenimenti principali della vita di Dante noi non è che ne abbiamo tanti e poi l'avvenimento principale della sua vita a sentir lui è l'incontro con Beatrice e l'incontro con Beatrice lui lo racconta nella vita nuova e dunque noi abbiamo una testimonianza di prima mano fantastico abbiamo una testimonianza di prima mano e lui ci dice ho incontrato Beatrice io avevo quasi 9 anni e lei ne aveva appena compiuti 8 e siccome lui aveva quasi 9 anni siamo nel 74 funziona tutto e poi ti dice la volta dopo che l'ho rivista avevo 18 anni e lì e lì qualcuno comincia a dire ma come sempre 9 sempre 9 appunto come dicevi tu Valentina e in realtà nella cultura di Dante la simbologia dei numeri è ricchissima talmente ricca che ci sono dei momenti in cui uno non capisce più niente perché lui fa certe volte fa certi accenni ti dà una data ma per dartela usa il calendario siriano tradotto in arabo moltiplicato per pi greco e quindi lì ci vogliono veramente degli esperti di astronomia e di aritmetica per venirne fuori e dopodiché per carità va bene è tutto simbolico quindi è tutto inventato va a sapere certo è che lui scrive la vita nuova dicendo questa è una pagina tratta dal libro della mia memoria e quindi ci sta dicendo queste sono cose che mi sono accadute e ovunque lui sta sempre ben attento a dire ho fatto questo mi è successo quello e così via però oggi oggi gli studiosi tendono a dire che comunque la vita nuova è un romanzo e ha fatto anche questo Dante ha inventato il romanzo a suo modo un genere curioso pieno mescolando prosa e poesia però la cosa importante del dire è un romanzo è che nei romanzi uno è libero di inventare quindi questo discorso di Dante che ha incontrato Beatrice a nove anni ed è stato folgorato e si è innamorato di lei per tutta la vita noi non ci possiamo mettere la mano sul fuoco così è come ce la mette lui quanto al matrimonio con la povera Gemma quello è veramente una di quelle tragedie che capitano agli storici e di cui ti chiedi ma perché ma perché ci deve capitare questo perché perché noi non abbiamo il contratto di matrimonio però abbiamo un documento di dopo quando Dante era già morto Gemma è vedova essendo vedova ha diritto a farsi restituire la dote perché la donna quando si sposa si porta dietro la dote e la dote è roba sua è la sua parte dell'eredità di suo padre e quindi la dote appartiene alla moglie in genere il marito gestisce gli affari però quando il marito muore la moglie ha diritto a riprendersi la dote peccato che i beni di Dante erano sotto sequestro perché lui era stato condannato all'esilio e quindi Gemma deve rivolgersi al governo per dire sì voi avete sequestrato i beni di mio marito povero uomo fu Dante però però in quei beni c'è anche incorporata la mia dote voi mi dovete pagare gli interessi di quella dote come minimo se no io come vivo e questo ragionamento è un ragionamento che tutti accettano perché la città è piena di vedove di esiliati a cui hanno confiscato il patrimonio ma i diritti della moglie non si toccano e quindi il governo ha appositi uffici che pagano alle mogli alle vedove degli esiliati gli interessi della loro dote per far questo devi presentare domanda protocollata in triplice coppia su carta bollata in cui devi anche scrivere quando ti sei sposata e Gemma lo fa e un notaio copia questa cosa e poi un altro notaio copia la copia e a noi arriva la copia della copia della copia e lì c'è scritto che si sono sposati nel 1276 cioè quando Dante aveva undici anni allora e allora appunto in genere in genere si dice vabbè ma a quell'epoca succedevano in tutti i colori era normale e non era normale le monarchie sì come dire le marie Antoniette magari venivano date in moglie già a dieci anni perché erano questioni di politica internazionale ma la gente normale non faceva sposare i bambini e quell'atto lì è proprio l'atto della celebrazione del matrimonio quindi uno dice uno di questi bravi notai che hanno copiato deve aver dimenticato due X avrà dimenticato vent'anni è venuto fuori in 1276 magari era in 1296 però come fai a saperlo di sicuro e quindi caso vuole che è una cosa che ci interesserebbe molto cioè sapere quando è che Dante si è sposato quanti anni aveva e così via si trasforma invece in questo imbroglio senza via d'uscita sostanzialmente ecco senti professore invece per quanto riguarda la Divina Commedia noi sappiamo più o meno in che periodo fu scritta mentre se vogliamo leggere gli avvenimenti di cui Dante parla Dante parla molto di cose avvenute persone con le quali lui ha avuto che fare amici nemici eccetera nella Divina Commedia ci sono tante persone che lui ha conosciuto ecco quanto di quello che Dante dice può essere preso con attendibilità storica? beh in realtà tutto finché si tratta di avvenimenti le opinioni sono un'altra cosa chiaramente chi lo sa se Nicolo III Papa Nicolo III era davvero una cattiva persona come dice lui a lui stava antipato comunque e quindi all'inferno dopodiché gli avvenimenti come dire databili più o meno funzionano tutti funzionano tutti come dire perché lui ci fa molta attenzione dicevo prima che il viaggio nell'aldilà si svolge intorno al venerdì santo dell'anno 1300 venerdì santo o comunque l'anniversario della morte di Gesù lì c'è tutta una discussione anche nella tradizione cristiana sulle date ma comunque siamo tra marzo e aprile dell'anno 1300 la commedia è piena di indizi che Dante semina per farci capire chiaramente che siamo in quei giorni questo significa che lui all'altro mondo può incontrare solo gente che era già morta nel marzo 1300 e lui sta scrivendo anni dopo però è informatissima ovviamente e quindi lui mette lì soltanto le persone che sono già morte gli piacerebbe tanto metterci Papa Bonifacio VIII ma Papa Bonifacio VIII era ancora vivo naturalmente quindi lui deve accontentarsi di metterci il Papa precedente che quando sente che arriva qualcuno dice ah Bonifacio sei arrivato finalmente e invece Dante gli dice no guarda non sono ancora arriverà ma non è ancora lui c'è un caso almeno in cui c'è una persona che gli sta così antipatica che lui riesce a metterla all'inferno lo stesso anche se non era ancora morto in quel momento ma lì si inventa tutto un trucco cioè si deve inventare che in certi casi quando una persona è davvero molto malvagia allora va all'inferno già prima di morire gli tirano fuori l'anima dal corpo la mandano giù e nel suo corpo ci va un diavolo al posto dell'anima lui si inventa questa cosa perché ci tiene talmente tanto a mandare questo tizio all'inferno che proprio non ci resista e quindi si inventa questo ma se no normalmente lui all'inferno in purgatorio in paradiso incontra solo gente che era già morta in quel momento e poi incontra gente che gli dice ti capiterà questo ti succederà quest'altra cosa fra 50 mesi vedrai ti capiterà questo ecco e lì sono tutte le classiche appunto profezie ex post quindi tutte quelle sono cose che gli sono davvero successe quando Farinata gli dice guarda che fra 50 lune ti accorgerai anche tu di com'è difficile ritornare dall'esilio e vuol dire che Dante sta scrivendo il canto di Farinata decimo dell'inferno almeno 50 mesi almeno 4 anni dopo la primavera 1300 lì non ci piove quindi c'è tutto un insieme di cosine che si possono mettere insieme e poi e poi ci sono i riscontri diciamo i riscontri sicuri 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 esterni cioè gente che a un certo punto dice caro caro mamma ti scrivo questa lettera è il 10 marzo 1316 ho appena letto un bellissimo libro che si chiama l'inferno di un certo Dante Alighieri sto inventando non è una lettera alla mamma ma questo succede abbiamo alcune testimonianze di persone che dicono c'è questo libro l'inferno questo Dante e sono databili quindi diciamo entro il 1316 17 forse anche prima adesso sto sbagliando non mi so mai bene a memoria comunque c'è forse 12-13 c'è un momento in cui l'inferno è finito e circola e la gente lo legge e poi ha continuato chiaramente scrivere la commedia non è che ci vuole poco gli ultimi canti li ha finiti poco prima di morire tant'è vero che non erano pubblicati nel senso che lui quando ha finito l'inferno l'ha fatto leggere in giro e la gente ha cominciato a copiarlo a passarselo quindi lo conoscevano tutti Purgatorio la stessa cosa e evidentemente a quel punto era così famoso lui perché è diventato famoso già prima di morire e tutti leggevano questa roba che lui pubblicava e quindi il Paradiso ha cominciato a pubblicare i primi pezzi e quindi erano usciti i primi canti mancavano ancora gli ultimi tredici quando lui è morto e i suoi figli poi li hanno trovati tra le sue carte hanno trovato gli ultimi tredici canti e li hanno pubblicati loro quindi diciamo abbiamo una serie di parametri che ci permettono di dire questo canto probabilmente è stato scritto più o meno a partire da quel momento e così via ecco siccome ci sono una cosa che mi ha capito del tuo libro in realtà è una cosa che non riscontro spesso nei saggi nei libri di questo tipo e cioè che ci sono circa un centinaio di pagine relative dedicate alle note ed è una cosa che ho adorato perché non tutti sono così precisi in questa cosa per cui ti chiedo alla fine di questa risposta alla domanda di Laura quanto tempo hai impiegato per recuperare tutta la documentazione e poi fare la stesura appunto di questo libro dunque prima dato che parliamo delle note io farei volentieri una premessa ci sono libri di tipo diverso ci sono libri che sono libri di pura divulgazione dove sostanzialmente un autore si limita a raccontare cose che ha già studiato in passato che ha già pubblicato in altra forma o cose che altri studiosi diciamo cose che gli studiosi sanno diciamo così e uno si mette a raccontarle per un pubblico più ampio di appassionati in quei casi molto spesso le note si possono anche non mettere effettivamente perché non stai dicendo niente di nuovo stai dicendo cose che gli specialisti sanno già e le stai dicendo a un pubblico che verosimilmente non avrà il bisogno di dire ma questa informazione in quale articolo in tedesco è stata pubblicata per la prima volta invece un libro di ricerca deve sempre avere un apparato di note perché la scientificità della ricerca si misura da una e una sola cosa e cioè che qualunque affermazione che io faccio ti dico come faccio a sapere quella cosa che sto dicendo da dove l'ho tirata fuori e la nota può dirti io ti dico che Dante era appassionato di cavalli perché nel convivio libro terzo capitolo quinto dice gli adolescenti vogliono il vestito e poi vogliono il cavallo vi spiego oppure posso dire secondo me Dante è stato a Verona per quattro anni e in nota dirò in realtà il professor Pellegrini dell'università di Verona sostiene che è stato a Verona molto più a lungo e lo dice in questo articolo e in quest'altro articolo ma il professor tra l'altro dell'università di Pisa invece non è d'accordo mi spiego se io scrivo un libro di ricerca io discuto con i colleghi per far andare avanti la nostra conoscenza e devo mettere a disposizione di tutti il modo di verificare quello che io dico il Dante come altri miei libri perché in realtà io mi sono reso conto che è proprio la cifra che io preferisco in realtà nel momento in cui come è successo stavolta io faccio un libro innanzitutto perché è un'idea partita dal mio editore che me l'ha proposto e io mi sono accorto che mi divertiva molto farlo e quindi dai va bene facciamolo perché un buon editore ovviamente è quello che conosce i suoi polli e sa fare i suoi autori delle proposte che non possono rifiutare cioè delle proposte che già prevede che faranno dirà però 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 sai che non ci avevo mai pensato in vita mia ma sarebbe divertentissimo fare una vita di Dante ecco in questi casi io preferisco però comunque fare ricerca studiare io ho letto quindi le fonti ho letto tutta l'opera di Dante ovviamente e ho letto tutta la bibliografia quasi tutta la bibliografia che esiste sulla vita sugli avvenimenti della vita di Dante non ho letto tutta la bibliografia che esiste su Dante in generale perché già soltanto leggere tutto quello che è stato scritto sull'interpretazione del trattato sulla monarchia ci vorrebbero anni già solo per leggere quella ma a me interessavano gli avvenimenti della vita di Dante e lì uno deve leggere tutto se può prima di ingolfarsi a parlare di un argomento bisogna sapere tutto quello che è già stato detto su quell'argomento io appunto cerco di fare dei libri che siano il frutto di una ricerca che quindi possano colpire e interessare anche i colleghi gli specialisti dove anche gli specialisti possano trovare delle cose nuove per loro o anche delle cose con cui magari non sono d'accordo e che hanno voglia di discutere e questo rende necessarie le note dopodiché io cerco di scriverle in modo tale che anche il lettore che non ha voglia di andare poi ad approfondire se vuole può farlo ben inteso perché anche il lettore non specialista se incontra un argomento in cui di colpo gli viene da dire però questa cosa è veramente interessante come posso saperne di più e le note servono appunto a dirti come fai per saperne di più e quindi diciamo appunto questo è il motivo per cui ci sono le note quanto ha quanto tempo ci ho messo in realtà io sono uno che lavora molto veloce anche perché lavora e non faccio quasi nient'altro che andare in tal mente e quindi in questo caso ve lo posso dire molto precisamente quanto tempo ci ho messo perché il mio precedente libro su Caporetto è uscito nell'ottobre 2017 anche lì per l'anniversario della battaglia vabbè e appena uscito il libro mi ha telefonato Giuseppe III e io dico mi telefona per congratularsi il libro sta andando bene e invece lui mi telefonava per congratularsi e per dirmi l'ultima cosa che un autore vorrebbe dire e cioè adesso dobbiamo pensare al prossimo libro e io subito l'ho mandato al diavolo poi lui mi ha detto no ma ne parliamo con calma ma ti volevamo dire un'idea che ci è venuta in mente e da lì è nato Dante era l'ottobre 2017 sono passati esattamente tre anni senti professore tornando al nostro Dante agli avvenimenti importanti della sua vita uno l'avvenimento prima abbiamo detto l'avvenimento che lui riteneva fondamentale è stato l'incontro con Beatrice però un altro avvenimento che è stato importantissimo perché gli ha cambiato la vita completamente è quello dell'esilio esilio che è dovuto alla vita pubblica di Dante Dante è stato un uomo pubblico che si è impegnato nell'attività pubblica sociale politica di Firenze ma il motivo vero per quale motivo veramente Dante poi è stato mandato in esilio e poi voglio chiederti anche due cose sempre relative legate al fatto dell'esilio Dante tu lo spieghi molto bene nel tuo libro aveva i suoi valori aveva le sue idee alle quali si è sempre tenuto molto coerente finché era a Firenze ma una volta in esilio sì più o meno una volta in esilio però certe cose sono completamente cambiate anche alcune opinioni che lui aveva espresso insomma ha avuto dei ripensamenti ecco quindi vorrei che ci parlassi un attimo di questi ripensamenti e l'ultima domanda relativa ne faccio tre di domanda relativa all'esilio è questa Dante a Parigi è una cosa che mi ha sempre incuriosita molto perché di Dante a Parigi se ne parla però non più di tanto anche perché non ci sono delle fonti certe ecco noi possiamo ipotizzare davvero che Dante sia stato a Parigi su quali basi? me le dovrai rifare queste domande una per una ok non c'è problema allora intanto per cominciare perché andare in esilio era una cosa che capitava a un'infinità di gente è proprio un risultato della sprezza della lotta politica comunale quella politica che sotto certi aspetti può assomigliare così tanto alla nostra appunto fatta di elezioni votazioni discorsi e così via però c'è una differenza fondamentale rispetto alla politica nostra ed è che non viene riconosciuta l'opposizione il diritto dell'opposizione a esistere ognuno pensa noi siamo quelli che hanno ragione è come nella lotta tra cristiani e musulmani ecco noi abbiamo ragione Dio è con noi e quegli altri sono dei maledetti infedeli nella lotta politica noi abbiamo ragione e quegli altri sono dei nemici sono dei nemici del popolo sono dei nemici della città vanno annientati vanno sterminati e sradicati in conseguenza uno dei drammi della lotta politica comunale è che appunto in queste città ricchissime prospere dove si potrebbe vivere benissimo continuamente centinaia di persone di capi famiglia vengono cacciati mandati in esilio le loro case demolite i loro poderi in campagna saccheggiati la loro vita spezzata continuamente in tutte le città a ogni cambio di regime e anche per quello che dopo un po' in tante città la gente poi dice sai che c'è meglio uno forte che tiene l'ordine magari anche col terrore ma che se uno sta bravo e lavora nessuno va a disturbarlo ecco è così che finisce che muore l'esperimento comunale e che si affermano le signorie cittadine quindi Dante va in esilio perché in quel momento caduto il suo partito la fazione bianca va cacciano in esilio qualcosa come 600 cittadini non uno lui è uno di quelle centinaia e centinaia che siccome contavano qualcosa nel partito quando il partito cade i loro nemici li buttano fuori ecco va anche detto però che quella è una città che ha 100.000 abitanti e se 600 cittadini vengono mandati in esilio tantissimi altri del partito confitto rimangono in città abbassano la testa e rimangono in città quelli che vengono cacciati sono quelli considerati proprio i più pericolosi o i più compromessi e va detto che in quel momento per la prima volta nella storia di Firenze il partito vittorioso anziché buttare fuori i nemici senza cercare nessuna giustificazione si prende la pena di mettere in piedi dei processi e di condannarli legalmente e quindi non perché erano nostri nemici anche se quello poi scappa fuori da tutte le parti non riescono ma di fatto per corruzione per abuso di potere per malversazione concussione baratteria come dicono loro e Dante è uno di quelli che vengono esiliati con un processo preciso con accuse oddio precise non c'è mai il capo d'accusa del tipo hai fatto quella cosa lì quel giorno ecco però sono accuse circostanziate aver preso soldi aver preso bustarelle per nominare dei funzionari mi spiego processo raggi peggio la raggi l'hanno mandato tutto il processo per infinitamente meno per niente in realtà si è poi visto ecco qui invece ci sono accuse pesanti dove diventa un po' difficile dire per carità era Dante figurati figurati bisogna vedere perché la politica era quello la seconda domanda qual era dunque era Dante che cambia una volta che in esilio Dante viveva molte sue posizioni posizioni anche abbastanza forti che aveva anche scritto poi tra l'altro nei confronti di alcuni personaggi Dante cambia tante cose c'è poco da fare la cosa più impressionante è che Dante a Firenze serviva un governo di popolo governo di popolo vuol dire governo degli imprenditori della gente che ha bottega e vuol dire quindi ostilità nei confronti dei nobili dei cavalieri di quelli che vivono di rendita ora Dante personalmente non era nobile se no non avrebbe potuto far parte di certi consigli dove era detto espressamente che in quel consiglio dovevano essere rappresentati i più ricchi imprenditori artifices e altri plebei fedeli e sicuri dal punto di vista del governo di popolo Dante che non è un imprenditore perché non ha mai lavorato in vita sua vive di rendita e quindi tecnicamente un plebeo considerato assolutamente fidato dal governo del popolo cioè della gente che sta a bottega poi lui personalmente lui voleva fare politica e essere utile alla sua città se vogliamo accettare il suo modo di descrivere la cosa voleva fare politica e per farla bisognava servire il popolo bisognava servire il regime di popolo su questo non si discute già in quegli anni Dante e i suoi amici se li sceglievano in un altro ambiente e gli amici di Dante non erano gli imprenditori che sedevano insieme a lui nei consigli ma erano i forese donati i Guido Cavalcanti nobilissimi giovanotti che lo sfottevano anche perché lui faceva politica insieme col popolo ecco mentre con loro faceva la vita aristocratica da giovin signore quando quando vai in esilio queste cose comincia a dirle cioè nel convivio dice delle cose imbarazzanti o meglio legittime Guido Cavalcanti l'aveva sempre pensato quello che Dante scrive nel convivio e cioè che se si vuole parlare di cose importanti del bene pubblico dell'interesse dell'Italia bisogna parlarne con i principi e con i nobili cavalieri uomini e donne che si intendono di queste cose e capiscono questi discorsi mentre i businessmen lui non dice così ma vuol dire quello quelli che stanno nel mondo degli affari e tutta la vita si occupano di quello non capiscono nient'altro a loro è inutile fare discorsi intelligenti quell'uomo lì però fino a pochi anni prima sedeva nei consigli del regime di popolo quindi quello è il cambiamento secondo me più impressionante com'è impressionante il cambiamento sul modo di presentare la propria famiglia e più in generale il problema della nobiltà perché Dante in passato sul problema della nobiltà aveva scritto delle cose banali scritte benissimo in modo brillante originale ma l'argomento di per sé era scontato e cioè la nobiltà di sangue è un'illusione l'unica vera nobiltà è la virtù la predisposizione alla virtù non sono nobili le famiglie ma solo i singoli individui se si comportano bene sono cose vecchie come il cucco che Dante riprende perché è un gioco fra letterati però sta di fatto che finché lui è a Firenze quello che lui scrive sulla nobiltà è la nobiltà non esiste quando scrive i canti di cacciaguida un po' di anni dopo dice io ho il trisnonno cavaliere e la nostra nobiltà di sangue sarà poca cosa ma intanto io sono nobile ecco e quindi anche lì anche lì un certo cambiamento c'è stato e poi e poi andando a vedere effettivamente Dante era sempre una buona parola per tutti e nell'inferno specialmente che è la prima parte della commedia che lui ha scritto ci sono delle cattiverie nei confronti di famiglie alle quali lui poi in futuro dovrà molto ci sono delle cattiverie anche contro i da Polenta e lui invece sarà ospite di Guido da Polenta alla fine ci sono delle cattiverie contro gli scaligeri lì come nel convivio e invece poi lui sarà ospite a Verona e farà in tempo nella commedia a raddrizzare la cosa perché i canti di cacciaguida gli servono anche per dire cangrade della scala generoso benefattore e così via ecco quindi in realtà diciamo non è per il gusto di scoprire che anche Dante era un uomo con le sue contraddizioni anche se questo ce lo fa sentire più vicino sicuramente ma è proprio perché è così non si può capire Dante fino in fondo se si continua a credere come dire all'uomo perfetto integerrimo che pensava soltanto al bene comune e basta e che non si è mai mosso dalla sua coerenza perché i fatti dimostrano che non è così e non avrebbe potuto essere così in quel mondo ecco chiaramente quanto a Parigi me la sono ricordata a Parigi abbiamo tutti i motivi di pensare che ci sia andato perché lo dicono i suoi primi biografi Boccaccio i primi commentatori della commedia e in genere quando loro dicono una cosa noi che ne sappiamo per dirgli no non è vero bisogna che sia plausibile però ci sta del resto dicono c'è andato ma c'è stato poco non aveva mezzi per mantenersi logico se sei in Italia sei un politico italiano anche in esilio sei immerso nel gioco dei partiti trovi gli amici trovi la gente che sta della tua parte o trovi il nobile signore che ti conosce come ex politico importante e grande poeta e grande faccitore di discorsi e quindi ti invita chiaramente a Parigi chi lo conosceva lo conosceva nessuno a Parigi quindi è perfettamente logico che lui ci sia andato perché Parigi era la capitale culturale del mondo in quel momento mentre la capitale economica era l'Italia però la loro cultura in quel momento il come dire l'avanguardia stava a Parigi poi però la prova provata che ci sia andato non ce l'abbiamo e siccome i dantisti tendono a litigare su tutto e poi i dantisti ci sono tanti e se uno dice una cosa è statisticamente probabile che ne salti fuori uno che dice il contrario ecco semplicemente per motivi statistici e quindi c'è tanti dicono ma no perché magari non è vero non c'è andato a Parigi ma secondo me non c'è motivo di dire di no sarebbe stata una cosa molto logica da parte sua aver voglia di vedere Parigi che vuol dire vedere la Sorbona naturalmente ecco quello è Parigi per lui professore io ti devo fare assolutamente questa domanda cosa si prova ad essere Alessandro Barbero in un mondo in cui gli youtuber attirano l'attenzione dei ragazzi e tu sei una sorta di influencer perché tu attiri l'attenzione di tutti penso che sia dovuto alla tua capacità di trasmettere la passione per la storia o a qualche altro fattore guarda io Alessandro Barbero è uno che non sta molto a interrogarsi sulle cose o meglio sul problema se il primo ospite di Dante a Verone il gran Lombardo sia stato al boino della scala o Bartolomeo della scala ci ho passato delle notti in bianco a ragionare ma su questi fatti qua su cui non c'è granché da aggiungere succede succede è una cosa buffa non so perché che io piaccia per la passione che esprimo me l'hanno detto in tanti quindi evidentemente è quello certo per il resto non ne so nulla lo lascio succedere e mi sta bene così tra l'altro a proposito di questo ci stanno arrivando tantissimi commenti io non credo proprio che riusciremo a leggerli tutti perché sono quasi 200 commenti perché stiamo circa in 900 a vedere questa diretta l'abbiamo superata in 900 ecco poi magari leggiamo qualche qualche commento io e Valentina andiamo a vedere qualche cosa intanto io ti vorrei chiedere per quanto mi riguarda l'ultima domanda perché Dante ha così tanti anni di distanza e ancora così ancora tutto questo fascino sulla gente come mai c'è questo continuo interesse in Dante nella sua opera sicuramente ma anche come uomo come personaggio storico intendo io non credo che sia soltanto per il fatto che si studia a scuola ecco forse c'è qualcos'altro secondo te cos'è che ha Dante che ha questo forte appeal sulla gente ma guarda io penso che io penso che in realtà Dante sia un pezzo dell'identità italiana semplicemente perché al di sotto di questo si potrebbero dire tante altre cose si può dire che Dante è Dante e cioè uno dei più grandi poeti mai esistiti e questa è una cosa su cui sono d'accordo tutti anche fuori d'Italia perché se uno va a vedere fuori d'Italia trova che i più grandi poeti e scrittori del novecento hanno scritto su Dante delle cose che fa quasi vergogna dire voglio dire James Joyce ha detto per me ci sono la Bibbia e Dante tutto il resto è zavorra Thomas Elliot uno dei grandi poeti angloamericani del novecento ha detto Dante e Shakespeare si sono divisi il mondo moderno metà per uno e non c'è spazio per un terzo Anna Akhmatova che è la più grande poetessa russa del novecento che leggeva Dante in italiano perché si aveva studiato l'italiano insieme al suo amico Ossip Mandelstam grandissimo poeta morto poi lui nei lager di Stalin lei invece no per fortuna e avevano studiato l'italiano per leggere Dante insieme Anna Akhmatova quando le chiedevano se aveva letto Dante rispondeva io non faccio nient'altro che leggere Dante allora questo però è a base di tutto e il fatto è che chiunque ha letto la commedia se ne tiene dentro un pezzo e ha provato delle emozioni che non sono le stesse emozioni che provi se leggi l'Orlando Furioso o la Gerusalemme Liberata che sono poemi bellissimi divertentissimi ma non sono a quel livello non c'è niente da fare qui mi sono esposto con un parere personale e va bene d'accordo Dante veramente è come Shakespeare è come la Bibbia cioè ci sono delle cose che una volta che le hai lette non te le dimentichi mai più e che ti plasmano è come Omero anche da un certo punto di vista altro paragone possibile però al di là di questo Dante all'estero lo conoscono i poeti lo conoscono i grandi scrittori ma non è così popolare fra il grande pubblico se io ho snocciolato tutte queste citazioni che vi ho snocciolato adesso è perché sono andato a cercarmele perché escono la traduzione inglese è quella francese del mio libro e entrambi gli editori mi hanno detto però facci una prefazione in cui spieghi come mai Dante è così importante hanno anche detto in cui ci spieghi tutta questa roba di cui noi non capiamo niente i comuni i podestà il popolo i guelfi i chibellini spiegaci questa roba perché da noi è ostrogoto per noi ecco va bene però soprattutto spiegaci chi è Dante quindi loro cheppure hanno tradotto con entusiasmo questo libro però sentono che per il comune pubblico inglese o francese o americano è utile spiegare chi è Dante in Italia non ce n'è bisogno tutti sanno chi è Dante tutti hanno sentito nominare Dante noi abbiamo fatto questo documentario con Rai Storia su Dante che è andato nelle settimane scorse abbiamo fermato la gente per la strada dicendo ci legge la filmiamo mentre legge un verso di Dante perché a un certo punto abbiamo cucito una serie di persone fermavamo la gente per la strada il capo dei vigili la studentessa nessuno ha detto cosa state dicendo tutti immediatamente si sono illuminati e hanno detto certo che lo faccio posso vi leggo Dante in Italia funziona così e questo non è solo perché Dante è grande come Omero o Shakespeare evidentemente perché Dante noi lo sentiamo come un pezzo della nostra identità non trovo un'altra parola migliore anche se identità è una parola diciamo che uno usa sempre con un po' di disagio però è quello essere italiani vuol dire anche sentire Dante è anche roba mia io sono un po' orgoglioso anche perché c'è Dante ecco e invece la mia ultima domanda è se tu davanti la che hai di fronte adesso in questo momento Dante e potessi fargli solo una domanda cosa gli chiederesti? alla fine prevale lo storico positivista gli chiederei ma quando è che ti sei sposato? allora senti professore allora volevo vedere un po' di ci sono delle domande ci sono dei commenti ripeto sono tantissimi partiamo un po' un po' dall'inizio ma sono sì dimmi dimmi qualche domanda rispondo volentieri i commenti fanno tanto fanno piacere naturalmente ecco però se non so che sono tanti c'è qualche domanda certo vabbè complimenti ovviamente allora vediamo un po' se ci sono delle domande ne avevo vista qualcuna anche tu Valentina se vedi qualcosa c'è Francesca Francesca che ti chiede che rapporti hai con le parole immagino sia importante scegliere quelle più opportune per divulgare e spiegare la storia un po' indietro però è indietrissimo sì non riesco neanche più a ritrovarla io vedo una domanda di Giampio che dice secondo lei esisterà mai un altro poema che sostituirà la commedia nelle scuole allora sì fra duemila anni magari fra duemila anni sarà arrivato un altro altrettanto bravo però vi devo dire che attualmente il problema è far entrare Dante nelle scuole all'estero specialmente in Francia perché i francesi che pure hanno avuto dei grandissimi dantisti e oggi oggi ci sono intellettuali francesi che anche loro dicono Dante l'unica cosa importante della mia vita e così via però nel curriculum scolastico francese Dante non è ancora entrato e 50 anni fa erano altri tempi però 50 anni fa è uscito un numero di una rivista famosissima dell'avanguardia francese che si chiamava Telquel e in quel numero hanno scritto grandi intellettuali francesi degli anni 50-60 come Philippe Solers che sono quelli che hanno come dire cominciato la grande fortuna di Dante in Francia e quel numero di Telquel si intitolava Con esse vous Dante conoscete Dante ecco in Italia sarebbe stata impensabile una rivista con un titolo del genere quindi in Francia la battaglia è ancora per fare entrare la commedia nel curriculum scolastico poi uscirà quando dovrà succedere succederà ma noi non saremo più qui per vederlo comunque io avevo visto una domanda di una dantista che è Bianca Garavelli che ci sta ascoltando e lei ti aveva chiesto tra l'altro una domanda che mi sarebbe piaciuto farti a proposito dell'iconografia di Dante e se proprio riguardo questo ritratto che è quello di Botticelli ecco se è attendibile se noi siamo sicuri di conoscere il vero volto di Dante attraverso questo ritratto magari anche altri ritratti nel modo nel modo più assoluto noi abbiamo dei ritratti di Dante già del 300 quindi già dell'epoca non molto dopo la sua morte ma nessuno nessuno di questi che hanno fatto questi ritratti aveva mai visto Dante noi non abbiamo la minima idea di che faccia avesse Dante al di là di quel che dice Boccaccio il quale garantisce che era di colorito piuttosto scuro capelli neri crespi aveva il labbro inferiore sporgente e poi dice che andava un po' curvo tutte queste cose però lui le dice per sentito dire neanche Boccaccio l'ha mai visto Dante però aveva conosciuto un nipote di Dante Andrea Poggi figlio di una sorella di Dante e Boccaccio dice mi assicurano che questo Andrea Poggi che io conosco bene assomiglia molto a Dante va un po' curvo come dicono facesse Dante insomma a Boccaccio la gente diceva tutto suo zio Andrea ecco quindi però i pittori che invece l'hanno raffigurato non l'avevano mai visto e sta di fatto che questi ritratti appunto sono immaginari nel senso che rappresentano il poeta laureato quindi vestito nella porpora dei laureati e con la corona da loro in testa come dicevo quindi vestito in un modo in cui Dante sicuramente non è mai andato in giro quanto alla faccia fanno di tutto per non renderlo simpatico perché ha quest'aria sempre appunto aggrondata severa da uno che giudica tutti gli altri per carità lui giudicava non c'è dubbio lui non doveva essere la simpatia non doveva essere mi azzardo a dire questo scherzando non doveva essere proprio il massimo la massima qualità di Dante e con l'editore e la terza noi abbiamo discusso su questa copertina perché loro volevano mettere a figura intera il ritratto di Botticelli e io gli ho detto ma è antipatico ha una faccia antipatica non mettiamolo e poi alla fine tira e molla ne abbiamo messo solo un pezzetto e alla fine va bene così credo allora io mi devo scusare con tutti quelli che hanno scritto però veramente sono tantissime tantissime ed è difficile riuscire a vedere le domande fra i tantissimi commenti quindi scusate se qualcuno ha posto delle domande che non riusciamo a leggere intanto volevo garantire a tutti quelli che hanno scritto che li sto leggendo anch'io e poi me li leggo tutti dopo quindi comunque vi leggo tutti e leggo per esempio Sandra Marcelletti che invoca leggete almeno questo saluti dalla Lapponia finlandese e questo è fantastico è fantastico bellissimo bellissimo professore bene allora poi ho visto dunque Cristiano no questo aspetta Rosario che chiede se Dante conosceva Platone non direttamente devo dire che il problema della conoscenza delle letture filosofiche di Dante è uno di quei problemi così complessi che io non l'ho approfondito molto quello che è certo è che era innamorato di Aristotele di Aristotele sì l'etica di Aristotele la cita moltissime volte la cita dicendo proprio quello lì è il mio libro e Aristotele è il mio maestro quello lo dice quindi in qualche modo Platone ci deve essere un eco anche di Platone in questo però io qui rivelo tutta la mia ignoranza la ricezione di Platone nel Medioevo è un fenomeno complesso di cui io non so praticamente niente sicuramente però appunto Dante è un aristotelico e non un platonico questo si può dire ecco mentre poi c'è ancora Podcast Italiano che chiede qual era il carattere di Dante secondo lei beh comunque ha già risposto alla seconda perché se lo immagina come una persona simpatica hai detto no non doveva essere poi così simpatica aggiungerei questo Dante a un certo punto scrive da qualche parte che studiare la filosofia gli ha insegnato che bisogna odiare gli errori e non le persone che li commettono qui si vede bene come loro riuscissero a conciliare ovviamente la filosofia aristotelica con la visione cristiana del mondo e dunque Dante dice io ho imparato questa cosa e l'ho messa in pratica e quindi quando vedevo qualcuno che commetteva un errore io andavo subito a dirglielo a criticarlo per questo errore non perché se l'avessi con lui anzi ma perché pensavo che mi sarebbero stati grati del fatto che mettevo in evidenza i loro errori e li correggevo poi c'era un'altra domanda poi direi che siamo quasi alla fine perché abbiamo già sforato l'ora allora avevo visto dunque che qualcuno chiedeva ecco Beatrice ti chiede qual è il tuo il commento aiuto mi sparisce sempre il tuo commento alla commedia che ritieni più valido che preferisci ah guardi a parte il fatto che una domanda di volta da Beatrice bisogna rispondere ovviamente vabbè sì è vero Beatrice i commenti alla commedia sono sono tanti io non ne ho uno che preferisco in modo particolare perché in realtà ognuno aggiunge qualcosa e ognuno riprende moltissimo che si trova anche negli altri quindi io non credo che ce ne sia assolutamente uno che da solo domina e sostituisce gli altri tenete conto anche che il commento alla commedia secondo me è necessario soprattutto perché Dante tante volte scrive cose davvero criptiche per noi cioè il commento alla commedia è purtroppo indispensabile perché certe volte l'italiano che Dante usa è diverso dal nostro la funzione più importante del commento che lo rende davvero indispensabile mentre vorrei sottolineare di solito il piacere di leggere è un po' guastato dal dover andare continuamente a vedere il commento e questo vale anche per la commedia purtroppo però il commento è necessario innanzitutto per il chiarimento immediato del senso del testo ci sono frasi che nell'italiano di oggi noi non capiamo più poi ci sono anche frasi come la bocca mi baciò tutto tremante che evidentemente non richiedono nessun commento e nessuna traduzione i commenti principali che girano fondamentalmente come dire dal petrocchio al sapere lo danno questo senso di aiutarti a capire il testo ecco quindi secondo me tutto sommato adesso c'è quello di Enrico Malato appena uscito che è ricchissimo anche quello e quindi incorpora tante cose anche tante cose nuove però in generale non credo che si debba preoccuparsi di dire oddio avrò scelto il commento giusto ecco in linea di massima andiamo bene i commenti sono tanti e sono tutti buoni niente qui i commenti continuano ad arrivare chiede anche un altro dunque Sofia vista l'importanza di Aristotele perché scegliere Virgilio come guida e non Aristotele stesso allora ragazzi io devo chiarire che io sono uno storico io l'immensa bibliografia su come è scritta la commedia perché cosa voleva dire Dante non la conosco perché si vuole tutta una vita per leggere neanche soltanto una parte quindi io non ho la minima ovviamente al di là del fatto che Virgilio è ovviamente per lui un grandissimo è un grandissimo poeta è vero che Dante a un certo punto parla di sé anche come filosofo mentre da giovane parlava dei filosofi come altri per cui dice lui io sono andato a seguire a sentire i filosofi le disputazioni degli filosofanti nelle sue ultime opere Dante dice noi che facciamo filosofia quindi lui si considera un filosofo e avrebbe potuto prendere Aristotele certo però la commedia è un poema la commedia è un poema e quindi a guidarlo deve essere un poeta bene Valentina allora vedo che ci sono altri Alessandro cosa vuoi fare? eh sì esatto io volevo fare solo un piccolo appunto che avevamo detto all'inizio che poi non arrivo esatto è vero è vero ecco è una cosa importante molto importante da dire vai Vale a gennaio verrà ripubblicato l'appo di Venezia ah sì politica è sempre una cosa così che segue le sue logiche ma comunque ovviamente a me fa piacere certo certo e anche a noi perché in effetti Gli occhi di Venezia era sparito dalle librerie era introvabile quindi siamo davvero molto contenti che ritorni in libreria anche questo tuo romanzo ecco siamo davvero molto felici di questa cosa perciò abbiamo fatto anche un po' di pubblicità a un prossimo libro non nuovo che però è da riscoprire quindi a gennaio possiamo leggere anche il tuo romanzo che viene ripubblicato ecco niente Alessandro cosa facciamo? chiudiamo qui ci sono ancora delle altre delle altre domande degli altri commenti qualcuno ha detto non potevamo chiudere meglio questo 2020 ed effettivamente anch'io lo dico non potevamo chiudere meglio che con una una presentazione una diretta col professor Barbero e va bene direi anch'io io vedo che arrivano tante domande ma molto sono difficilissime e quindi sono molto meglio ecco anche a proposito di un faccio ottavo poi anche Bonvesi della Riva eh sì ci sono tante domande penso che se stessimo qui fino a domani mattina continuerebbero ad arrivare e ci fa davvero molto piacere molte domande che vedo e non so rispondere a molte domande che vedo quindi è molto meglio che che chiudiamo elezionamente qui ragazze allora facciamolo rivedere esatto questo questo volto un po' nascosto di Dante che si è ormai entrato nell'iconografia classica tutti abbiamo in mente quando pensiamo a Dante pensiamo a lui con l'allora in testa e il naso aquilino ecco e grazie mi raccomando leggete questo libro perché come tutti i libri del professor Barbero è un libro bellissimo che si legge eh non è assolutamente un libro per soli addetti ai lavori io lo dico sempre quando me lo chiedono i lettori ma anzi tutti noi possiamo leggerlo e possiamo imparare tante cose quindi per il l'anno dantesco credo che non ci sia libro migliore grazie mille professore grazie davvero tanto buon anno grazie a tutti buon anno a tutti buon anno a tutti voi ciao 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 ciao